In questa lezione verranno sfolti alcuni esercizi sugli orbitali atomici, i numeri quantici e le configurazioni elettroniche. Come primo esercizio consideriamo il seguente, determinare il numero e le terne di numeri quantici degli orbitali atomici aventi come numero quantico principale n3, quindi riassumiamo il dati e lo scopo, quindi lo scopo è determinare il numero e le terne complete, quindi le terne di numeri quantici degli orbitali atomici, quindi tutti gli orbitali atomici che abbreviamo con l'indicazione AO, atomic orbita, con numero quantico principale n uguale 3. Quindi dobbiamo determinare tutti gli orbitali atomici con n uguale 3, determinare quanti sono e le terne di numeri quantici perché sappiamo che ogni possibile funzione orbitalica è definita da tre numeri quantici n, l, m, quindi una terna di numeri quantici definisce una funzione orbitalica φ, quindi con φ indichiamo l'orbitale atomico. Per far questo dobbiamo ricordarci le relazioni tra i numeri quantici tra i numeri quantici. Sappiamo che il numero quantico principale n varia da 1 fino a infinito e prende solo numeri interi, quindi 1, 2, 3, eccetera. Il numero quantico secondario L varia da 0 a n-1 assume tutti i valori interi compresi da 0 a n-1 e il numero quantico quantico magnetico assume tutti i valori interi compresi da meno L compreso lo 0 a L. Quindi vogliamo stabilire il numero di orbitali atomici. Dobbiamo andare a considerare quali sono le possibili teretine di numeri quantici per gli orbitali atomici φ. Allora, sappiamo che il numero quantico principale n è uguale a 3. Per quello che abbiamo detto precedentemente, il numero quantico secondario L potrà assumere tre differenti valori, potrà assumere il valore 0, il valore 1, fino al valore n-1, cioè fino a 2. Quindi abbiamo tre possibili valori per il numero quantico secondario L e per il numero quantico quantico magnetico M, abbiamo una scelta che dipende dal numero quantico magnetico L, ossia M può assumere i valori che vanno da meno L a 0 a L, quindi dipende dal numero quantico secondario che scegliamo. Grazie a tutti.